E' stata inaugurata a Ginosa la mostra dell'artista sedicenne Ginosino Giuseppe Caruso. Dal titolo Ginosa i colori, i panorami, le emozioni, grande partecipazione degli amanti dell'arte e non solo, per una mostra artistica che sa di Ginosino, innocenza, purezza e tanta voglia di guardare al futuro, come solo un sedicenne sa fare. Che aspettate? Ginosa è anche questa. Potrete ammirare i quadri dal 21 al 1 maggio presso il Palazzo della Cultura. Non deludiamo i nostri giovani, loro sono il nostro futuro e a noi non resta solo che incoraggiarli. Sicuramente quelli che sto esponendo sono quadri dei nostri scorci locali, quindi il castello o ancora la chiesa madre. In onore delle feste patronali ho anche riproposto dei temi come quelli dei santi patroni di Ginosa. Sicuramente alla quotidianità potete trovare diverse scene di vita quotidiana e anche riprecorrendo la storia, quindi con molte immagini anche della Ginosa storica, quella vecchia. e anche alla flora e alla fauna. Infatti ho dipinto su dei tamburelli alcuni animali, uccelli soprattutto, delle nostre campagne e anche delle nostre spiagge, visto appunto gabbiani o anche scene marine. Grazie per la visione!